Ecco uno splendido Fremont, è un 2000 turbo diesel dell'aprile del 2013, molto molto bello, tenuto veramente molto bene, ha i 4 pneumatici nuovi, è la versione 140 cavalli, è già un Euro 5B, molto bello, andiamo a vederlo nel dettaglio, ecco qui, i chilometri come vedete 69.638, ovviamente certificati garantiti, tutte le italiane le manutenzioni sono registrate correttamente eseguite, come di conseguentine il display con la radio, la console centrale, climatizzatore automatico, vettore cd, gli interni sono in tessuto nero, molto molto belli, idem per la panchina posteriore, tutte le classiche regolazioni, Fremont offre veramente una grande scelta e possibilità anche di configurazioni interne, ovviamente spaziosissimo, sette posti, guardate che vano bagagli, veramente impressionante, bellissima, splendida, vettura con possibilità di fatturazione con IVA esposta, eccola qui, 2000 turbo diesel, aprile 2013, 140 cavalli, venitela a vedere e a provare, sempre qui a 6 marce nel nostro deposito a Varallo Bombia.